Malfight mid con il fleet Interesting Un po' stitizie Anche Charmanderra Charmanderra è un Aram player ragazzi Cioè nel senso Ok Forse non ha realizzato che non sta giocando in Aram Allora raga se sto tizio gioca bene non è lui Proprio ci metto la firma Vedo un po' di clash Oh questo è un tizio Flex 5d5 questo gioca in team Il Sion Invece Ok il top laner Ah no Ah no Cazzo questo è il Sion Oh merda Ops Questo è il Sion ragazzi Ai 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 Come abbia 52% in wear rate Non lo sa manco lui Però Ai 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 Per l'account plat si paga in contanti Allora vediamo un po' Oh bello Dario Skull Sorcery Secondario Non come quelle fighette che giocano Il Resolve Si gioca a Sorcery con movement speed Per inseguire gli avversari A tov in condition e raggiunge gli avversari Malphite Ambiguo Devo essere sincero Vediamo Vediamo come giocherà il Malphite Sion senza neanche le pozioni Chissà se va a fare quella roba Che va a rubare il red buff E muore Ah no Quello lo fanno i top laner Why conqueror Sion E faccio il guardiano A te che 6 pack che c'ha Nasus ragazzi Anzi Almeno un 8 pack Ah lucky boys Non c'è sta nessuno Tocca asloggiare Botlin C'è tutta la giungla Al buio Face check Ne muoiono tutti State a vedere Io copro Ok C'è nessuno Io ho girato con loro Che ci Ci fossero stati I nemici Ok Abbiamo Un Malphite Con il fleet In mid lane Sarà un genio O sarà un troll Scopriamolo Un bello free strike Qua Ci da un po' Di soldi Fetta ci insegue Questo è un po' Che ci lascia Totalmente indifferenti Anzi Usa il mana Oddio Ma what? Ma Pizzi ha rubato il blu ragazzi Cosa cazzo Appena è successo Cosa cazzo Appena è successo Ragazzi Mentre non vedevo Ha fatto il first blood Ah ma è andato a uccidere Cain What? Ma ha lasciato A bocca aperta Ragazzi Blitz è un mega chad Ma assolutamente Sì Ok Non serviva sto flash My bad Non serviva il flash Mi sono fatto Cioè dovevo rimanere Col sangue freddo Vabbè dai Flash per flash Va bene Flash per flash Ok Tanto lui ha usato Anche l'ignite Kain ha perso un sacco Con quella roba Che gli ha fatto Blitzcrank Quella memata Che gli ha fatto Blitzcrank What? Sta laggato Oh Computer Che cazzo Ti prende Oddio Vediamo se basta Per salvarmi Ne dubito Perché c'ha Il red Uff Eri Morto di red buff Ha fatto un giro Del cazzo Questo Kain Perché non l'ho visto Vabbè Ma tanto siamo abituati Ad essere sittati Quindi non vedo Quale sia il problema E torniamo in lane Adesso A dare di nuovo Il buongiorno A quel Quel mal fight Ovviamente Qua andiamo di maschera Perché I combattimenti Durranno Un sacco Bravo Darius Tuo Ah madonna Oh Vendetta Pezzo di merda Ho anch'io I fidanzati Tutti i miei fidanzati Sono questi Ci prendiamo anche Una plate Qua Eh Blitzcrank Perché c'ha C'ha Immobilità Oddio Basta Ragazzi Allora Madonna Quanta gente Stronzi Oh ma Ma che cazzo C'è a sto computer Di pochissimo Peccato Raga Quello fa il semi kill Non disrispettiamo Così tanto Comunque mi piace L'aram È già partita Fa piacere che l'aram Sia già partita Comunque Beh che c'ha la ulti Per scappare Però Ci sono Bene Ovvio Vabbè Questo Un po' pazzerello Devo essere Onesto Sia Non mando Un punto interrogativo Ovviamente Si aspettava Che tipo Io lo shottassi Fa molto piacere Qua sta chiaramente Arrivando il fidanzato Vabbè Gank misero Sinceramente No Tenete Ok Capisco Bene E questo è il game Più Aram Che abbia giocato Nell'ultimo periodo Comunque Venite Minion Venite Tutti qui Tutti insieme Per la E Ecco fatto Wave Sparita Questa è tutta Wave che perde Malphi Sì Sto game Ragazzi È Molto particolare Devo dire Lui gira Nel frattempo Peccato che non insegua Peccato che non insegua È il viz grabba È la madonna È la madonna Stavo per dire Potrebbe averci La ulti Di nuovo Ormai Uh no Cazzo M'ha preso Non penso Facesse flash E se no Mi salvavo No no Questo game È totalmente Aram Ragazzi Proprio Totalmente Aram Totalmente Aram Sto game Però fa ridere Perché non per usare Il demolish Ma non mi serve a niente Tanto il mio obiettivo È pushare sotto Torre la wave Mi fa Molto più comodo Avere Il Del mana in più E Del cooldown Reduction Spertutto il mana in più Mamma mia Vabbè dai Mi sto divertendo Comunque se Mid e giungla Non sono pre-made È inspiegabile Sta cosa Lo diventeranno Se non sono pre-made Lo diventeranno Oh i danni iniziano a farsi sentire Qui vedo uno Zilean Cazzo è stato Salve ragazzi Venite pure Tutti Venite pure C'è spazio per tutti Ragazzi Venite 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 Hanno sgamato Fratme Ma come corre Fa Non sto manco Adultare Vabbè No blitz No 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 Vabbè Si torna di teleport Si continua a fare Pressione mid Cioè cosa devo fare L'aram è ripartita Oh cazzo È rip Niente Aram time Vai 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 Go 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 È morto Standomi addosso Sto tizio L'aram Continua signore e signori Non è ancora finita Pensavate fosse finita Non lo è Ah chi voglio un bel titolo Che abbia a che fare Con l'aram Direi caudo back Qui Tanto Io la mia pressione L'ho messa Ah ma il fight è top Allora io rimango qua Che ne bot Che vuol dire Nuova plate per me Presa E portata a casa Pecca Ah ma non è Aram Ma l'avevo detto Che malfight giocava Era malfight Sì che giocava Tutte Aram E ho visto il pgg Ha solo Aram Quindi Cioè lui si sente Perfettamente a casa Infatti Il gioco dell'aram Lo sta vincendo lui Perché lui giustamente Si sente molto più a casa A giocare Aram Forse per me Di conchine Giocano sempre Aram Insieme Per quello Mi verrebbe da dire Ecco qua Non so perché Sto tankando Forse Colui c'ha ancora La maschera addosso Eh ci sta Bravi Dentro la mia ete Bravissimi Tenetelo lì Ottimo Oh comunque Che cazzo è Clon Fiesta Sta partita Cosa possiamo dire Cosa possiamo dire Signore e signori Ma carriato cosa Ragazzi Ma carriato cosa Che C'ho 20.000 in più D'altro mid lane Io non ho giocato Praticamente Ma avete visto Il cazzo Il game c'è stato Grazie Grazie a cazzo Che le altre lane Hanno vinto Non c'era nessuno Nelle loro lane Zillian è Perennemente mid Il jungle È perennemente mid Cioè ma ci mancava Soltanto che perdessero Ragazzi Rip più 12 Non che mi serva davvero Però Allo stesso tempo Oh mi sono spostato A bot Ma vengono tutti i bot State a vedere Arab Adesso Ora Dell'Arab Oddio Quanto DPS Che c'hanno È più che altro Quante cure Che c'hanno Qua mi sa Che si va di Morello Più che altro Sapete Qua mi sa Che si va subito Di Morello Ve lo dico io Anzi Tanto Sti cazzi Quell'oggetto Ah stop Ecco E io non sto riuscendo A buildare oggetti Ragazzi Perché non sto giocando In sto game C'è C'è Valfight Non c'ha un cazzo È per carità Però Vado io Bot I guess Va bene Sì Si è curato Un botto Sto tizio E Non c'ha L'ignite Blitz Insomma lì Basta anche Che morisse Kane Era vinto Il fight Però Non moriva Lui è Kane Ma come un cazzo L'ha preso Che game Complesso Complesso Cioè non so come abbia recuperato Kane Ricordiamo che Kane è morto a livello 1 contro Blitzcrank Che da solo ha invaso Kane in giungla Importante rammentare L'epicità del nostro support L'attore cadrà dopo Non è un AT1 Non vale la pena suicidarsi per prenderla Oh no Tic Io sto dando il mio fastidio Tanto Mordekaiser ha sicuramente più valore di me attualmente Quindi finché rimani qua in botta a fare un cazzo Io sono contento Finché rimani qua in botta a grattarsi le palle A me va benissimo Tic Olè Romo potrebbe andare a grattare le palle di Darius No Tu stai qua E ti becchi pure questa Oddio Come ho appreso Rip Scomparito Ok Tornato Tic Il fastidio Io c'ho il TP quindi Dopo aver punzecchiato posso andare back Oh È questo Che sta a fare ragazzo Vabbè Andiamo a togliergli la ward Sono comunque tre stack Grazie benito Grazie benito Fri benito Fri benito Fri benito Fri benito Trattino basso vampi Grazie mille benitone 6FGv328 gift Sub synth channel Grazie mille Ho sempre sentito le cose dentro Oh Vabbè Filtiamo Ah cazzo Che sfiga Ok Hanno killato Quello lì Buono Preso un sacco di tempo Uffete vai Ah shit Ma mi sa che ha maxato E quello Perché slow Ha davvero troppo Sì sì ha maxato E sicuro Ciao Fieri Ti auguro di fatturare molto Vabbè Easy Maxa sto cazzo Coglione Ti auguro di fatturare molto Hagi capito Fatturo Ragazzi Fatturo Non preoccupatevi Don't worry Amo i tuoi pick Le pause al lavoro sono un tuo game Dopo l'altro su youtube Grazie salamino Molto molto gentile Amo i tuoi pick Oh ma porca puttana Le pause al lavoro sono un tuo game Dopo l'altro su youtube Non ho male che mi è stato ricordato Grazie salamino e true breaker Molto gentili Grazie anche al bot Che ci tiene Così tanto i vostri sub Che mi li fa sentire Due volte Se qualcun altro volesse subarsi Ricordate che c'è Due al prezzo di uno Come potete ben sentire Torre presa Oh Va bene Cazzo serve Mi darsi il morello Contro questi comunque A niente Lo dico io Ma comunque Le cure sono troppo Sbroccate in sto gioco Non hanno veramente Senso di esistere K1997 CIRDX100 Meno male che buontia Grazie K K1997 CIRDX100 Ciao K Spero che tu fatturi molto E porca puttana Peccato che i soldi Non si duplichino però Quello purtroppo Non accade Amen Non l'avrei killato Perché appena gli dava la moving speed Scappava Scappava Partito un alert Non vedo Non vedo chi è stato K1997 Non so se è una mossa Non so se è una mossa di twitch Per far abbonare più persone Ma Non so come Ma ne du... No Stai lì Questi erano danni interessanti Interessanti Fieric soffro di demenza e potrei ripetermi Ma ti si vuole bene Fieric soffro di demenza e potrei ripetermi Ma ti si vuole bene Penso è andato abbastanza bene Questo fight Tolto il fatto che i nemici Non subiscono danno Perché si refullano K1997 CIRDX100 Ciao ragazzi Anche voi sperate che Fieric fatturi molto K1997 CIRDX100 Ciao ragazzi Anche voi sperate che Fieric fatturi molto Non vi ringrazio più Per i soldi che arrivano non sono doppie Come mai? Sto game uno può leggere Uno sette sette Fieric ma sei stato carriato Raga Per chi è entrato dopo il minuto 15 Non avete capito che cazzo è successo in sto game Cioè ho visto delle Aram che Vedevano meno giocatori Allo stesso momento nella stessa lane Ve lo assicuro Cioè non avete idea Ho comprato l'account Sì Tommi lost regone CIRDX100 Ciao Fieric Non so se ci hai mai pensato Ma un uomo che caga è molto simile a una stampante 3D No non c'ho mai pensato Tommi grazie dei beats Oddio ma che fa Oh Cosa è sta roba Ah ha deciso di intare Interessante Interessante Vabbè Il loro DC ha detto Ha deciso che non vuole vincere Forza Fieric che il Diamond è vicino C'è una nuova notifica Forza Fieric che il Diamond è vicino Dio bono sto alert Non li posso più Grazie Nioxx e Caff E tutti quelli che continuano a rompermi le orecchie Con sto cazzo di alert Non lo so perché si sdoppia ragazzi Non lo so Non ho la minima idea Perché Stream Elements è fatto col buco del culo Non so che dirvi Ma se fa Eh dicio ma se hai fatto la corona Ha subito 5 danni Se anche tu pensi che Fieric guadagni Molto scrivi in chat Eh vabbè Dio Cristo Ma è rinato 4 volte Quel tizio Ma non è possibile Ma cosa sono ste cure Non ha senso Ma non ha il minimo senso La quantità di cure che c'ha questo Questo qua sfatto antial Cioè non serve a niente Bidals antial Ma che deve fare uno Quando gioca contro i campioni che si curano Cioè è ma incredibile sta cosa Io voglio vedere healing done alla fine Della partita Dio del grafico delle cure Grazie papà Vince per i sub giftati Questo non si è sdoppiato Cioè vi faccio vedere cosa sto vedendo io ragazzi Qua Nils suba 2 volte Qua Tommy Kaffa 2 Scamos game 2 Non so perché Non so che dirvi Non è una roba che posso controllare In sto game del cazzo Oltretutto In questo game di merda proprio No bro No 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 Sei da solo Sì però blitz Cioè hai fatto delle robe Nel game Ok però basta Intare Grazie Grazie Caffa Grazie mille Non ce la faccio più No 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 Cioè ma vi rendete conto che bisogna ucciderlo 7 volte sto tizio Ma vi rendete conto che va ucciso 7 volte sto tizio Kaffa 1997 gifti da tier 1 sub to tarantolin 0 They have given 315 gift sub synth channel Eh Kaiser Grazie Grazie caffa del sub giftato Io Boh mi dispiace più che altro perché non posso fare assolutamente niente in sta partita Io Assolutamente niente Il game per me è stato una merda E E ora letteralmente Hanno il team delle cure questi E delle resurrezioni E proprio ti passa la voglia giocare contro questi Fanno un cazzo se non pigiare i tasti e curarsi Oh mica questo abbiamo scopato Ok forse sta ulti era troppo Però Però Nice bait da Arius Attenzione Cioè sono troppo indietro a sta partita ma Porca puttana Che poi di base era tutto normale nel senso Io mid sono stato abusato I miei alleati hanno vinto le loro lane Il problema è successo che Se arrivati in late game ha iniziato a fightare E Zilean più Più Kane Sono diventati imbattibili Proprio non Kane non muore mai Si refulla sei volte da solo Quando ho smesso di refullarsi Zilean ulta E lui rinasce Proprio una situazione orribile Qua è che non ci combinava molto Imo Oh 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 Reef Ok ha sprecato la ulti Ah sono tutti vivi Ok Mamma mia Il Darius gameplay è partito Il Darius gameplay è Cazzo partito We can end Sa che si ragazzi Se non chiudere Se la chiudiamo questa Mamma mia ragazzi Che game Mamma mia che partita Lì ha annentato Perché Zilean Ha tirato la ulti su Kane Quando Kane Ha ultato me E quindi la ulti di Zilean L'ha letteralmente buttata Anche perché Kane è uscito Ovviamente full vita Perché vabbè Il morello Come non averlo E quindi la ulti di Zilean È andata buttata E non hanno potuto fare Il loro loop Del 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 Nasus Il mio lo faccio Però anche sto game qua Mi hanno troppo 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 Sittato Mid All'inizio E comunque La torre mid Ha retto benissimo Grazie al fatto Che sono Nasus AP Quindi La mia utilità È comunque Stata data Nonostante Tutto